Per Evani, penetra da sinistra Evani, effettua il traversone, c'è Virdis e è gol, è gol, gol di Pietro Paolo, Virdis sul traversone di Evani, gol in combinazione fra i due milanisti nella prima azione della ripresa, il quinto, abbiamo segnato e vedete l'esultanza dei tifosi italiani, Virdis 1-0 per l'Italia. Una splendida azione da parte dei nostri con il traversone di Evani, ecco che rivediamo e osservate Virdis come anticipa Secco, mette all'avversario e sfiora il pallone di quel tanto che basta mettere fuori causa il portiere.